Il vincitore del main event dei campionati italiani 2021 è Romano Ravaioli! Romano, congratulazioni! Grazie, grazie. Un po' di fortuna non guasta, ma penso di aver giocato un buon torneo nell'arco dei quattro giorni, anche se stasera ho avuto un colpo fortunato. Ma ne ho avuti anche degli sfortunati. Naturalmente sì, chiaramente ci deve essere anche l'esperienza, il know-how, i sacrifici. Fortuna audace su Juvat, dicevano, però non basta, non basta. No, ci vuole un po' di uno, un po' di l'altro, un po' di capacità, un po' di fortuna per poter arrivare. È chiaro che un po' di esperienza aiuta. Non guasta mai? La migliore degli insegnanti, dicevano. Ascolta, vogliamo raccontare la mano con la quale hai vinto? Perché tu avevi asso di cuori e dieci di fiori, contro un asso di fiori e un k di picche. E poi cosa è successo? Lui apre, io tribetto, siamo in due a giocare, non siamo dieci al tavolo, quindi trovare anche asso k non è così semplice, non succede sempre quando c'è un asso chicherato bene in due, asso dieci chicherato bene. Io ho abbastanza più di lui, ho il doppio del suo stack. Lo tribetto 2,40, lui mi mandaresti. È un giocatore bravo che può farmelo anche per farmi foldare, perché penso che mi abbia fatto foldare anche delle volte da buono, perché è uno che... Eh, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto al tavolo finale televisivo. Ero anche, non voglio trovare scuse, ma ero anche un po' stanco, perché è un po' la tensione. Avete iniziato alle 14, comunque è mezzanotte e un quarto, cioè il tempo inizia anche a pesare, giustamente più tutti i giorni che avete fatto per arrivare qui questa sera. Però è andata così, l'ho chiamato, rimango ancora in gioco, se per caso perdo, perché rimango ancora un milione e mezzo, non è che sono fuori dal torneo. Però mi sono giocato il colpo senza pensarci che magari se ci ragiona un po' di più passo, è andata bene. È andata bene. Senti, sul cuore tu porti due spillette, vogliamo salutare qualcuno della famiglia? Beh, tutti i ragazzi della Golden, sono grandi amici, sono ancora qua che mi tengono in compagnia, sono rimasti qua. Ti hanno supportato fino alla fine, c'era anche chi faceva veramente il tifo, eh? Eccola! Buonasera, fanciulla! È fanciulla qualche annetto fa, va bene. Scusa, volevo... E gioca con il cuore. Gioca con il cuore che è un grande amico dei Golden Boys. Senti, la... Eccola, ci sono, ci sono, ci sono, non ci sono loro due. A questo punto dobbiamo dargli il naso, non davio. Mi sembra cosa buona e giusta. Grande, grande il nostro... E concludiamo così. Romano, Ravaioli si porta a casa, Jack, Jack si porta a casa il titolo di campione italiano di questo main event, dei campionati italiani 2021. Congratulazioni! Ciao a tutti!